oggi abbiamo rinforzi colorazione dei moraletti che saranno la base del van del pavimento del van grande clara oggi abbiamo cominciato con la struttura del pavimento e abbiamo tagliato tutti quanti i moraletti tenendo a mente che ci sarà il cassetto estraibile per la bici ora le fighiamo e clara mi sta dando una mano a tagliarli si bene soffitto fatto adesso si continua con il pavimento non avrò gran che tempo temo prima che cominci la mia stagione lavorativa ma ci proverò tanto è tutto quanto già abbastanza predisposto almeno la struttura e anche l'idea e ora devo tagliare le tavole della misura giusta per andare a completare diciamo il pianale quindi al lavoro grazie a tutti Due settimane dopo Si torna ai lavori, causa che ero in Francia a lavorare, ogni tanto tocca Ho finito di tagliare il pavimento, adesso lo smonto di nuovo tutto quanto E incollo la struttura mettendo anche l'isolamento Non so, non so, non so, non so. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui c'è il pattex apposta per incollare adesivo per pavimentazioni, quindi linoleum e legno vanno molto d'accordo. Però c'è scritto di assicurarsi che non ci siano residui di colle e vernici. Quindi, siccome tutte quante le tavole che io ho utilizzato per il pavimento sono verniciate, ora le svernicio tutte. E vai. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Allora, ho levigato tutto e quanto il parquet. E ora lo ritolgo perché ne metto uno alla volta e mano a mano lo avvito sui listelli. Infatti mi sono segnata dove sono i listelli. Inoltre ho dovuto rifare alcuni listelli perché non tenevano su, diciamo, i pezzi piccoli, mancavano dei pezzettini. E toglierò anche la struttura che teneva su le ruote sul carrello della bici perché metto tutto quanto un linoleum sopra. E se riesco vorrei togliere quello grigio e metterlo tutto uguale per tutto quanto il van, visto che l'ho comprato di quella misura lì. E quindi devo togliere tutto. Dai che rifacciamo tutto! Allora, la base del pavimento è finalmente conclusa. Ora ho incollato anche il carrello delle bici che era l'ultima cosa che mi mancava. E probabilmente ci metterò anche delle viti autofilettanti che vadano a fissarsi giù nella lamiera, anche se ben incastrato, senza dubbio. Comunque, con la colla ho sempre usato il Silcaflex che avevo comprato per rifinire le ventole del soffitto che ancora ne ho, anzi adesso è finito. Bene, quindi ora non resta che aprire il mio bellissimo spero linoleum, dico spero perché l'ho visto solo da chiuso, e vedere come sta. Ah, volevo dire che io ovviamente ho utilizzato il parquet perché l'ho recuperato e quindi non ho dovuto spendere niente. Ha comportato molto più lavoro. Ovviamente comprare un multistrato al grezzo, una grande tavola, ritagliarla della misura giusta è sicuramente più breve, anche se magari è un po' più complicato, avendo un grande pezzo, riuscire a tagliare la forma giusta. E ecco, volevo solo specificare questa cosa del perché della mia scelta. Ora non manca che attaccarlo. Ma adesso vado a fare aperitivo e lo attaccherò dopo, o domani mattina. domani lo incollerò. Domani lo incollerò. Domani va fare aperitivo per presso di O Il pavimento come avete visto è fatto finito, quindi per tutti voi che al BAM mi avete fermata e anziché dirmi qual è il prossimo viaggio in bici mi avete chiesto, e allora il van come va? Ecco qua, sono riuscita a finire il pavimento in questi pochi giorni che ero a casa, sono super soddisfatta e il prossimo step sarà a letto ma con quello ci vediamo a luglio. Spero che vi sia stato utile questo video, se avete qualsiasi domanda scrivetemi e ci vediamo nel prossimo. Grazie. Grazie. Grazie.